La MFC nasce nel 2002, non c'era inferiore, ma ha alle spalle una consolidata esperienza nel settore ferramenta. Infatti già nel 1963 nasceva la prima ditta Salvatore Murrone. Negli anni al settore ferramenta viene affiancata la termoidraulica, che diventerà poi uno dei punti di forza dell'azienda. Negli anni 80 viene inaugurata una nuova e più ampia sede anche a Cava dei Tirreni, si tratta della Samofer. Nel 1995 a Nociara Inferiore nasce la Gimar, che nel corso degli anni conquista competenze di eccellenza nel campo del fotovoltaico. È nel 2002 che prende il via la storia recente. Dalla fusione di Gimor e Samofer nasce MFC, che nel giro di poco tempo assume le dimensioni e l'organizzazione di un'azienda leader. Tanto che oggi è un punto di riferimento in tutta la vasta provincia di Salerno, nel campo del riscaldamento, della termoidraulica, della climatizzazione e dell'energia rinnovabile. Nel 2005 il taglio del nastro della nuova sede, con una superficie di 5.000 metri quadrati, di cui 2.000 coperti. Il 2013 è un anno speciale, un anno da incorniciare. Infatti l'MFC spegne le sue 50 candeline e celebra il giusto riconoscimento all'impegno e al lavoro di un'intera famiglia, che ha dedicato una vita alla propria attività.